Ciao a tutti e bentornati. Questo è un video un po' diverso dal solito perché vorrei provare a parlare di scienza partendo dalla fantascienza ed è un esperimento che probabilmente ripeterò altre volte, ma per adesso partiamo da un film di qualche anno fa che probabilmente avete visto tutti, ovvero Interstellar. A proposito, se non avete visto Interstellar e non volete spoiler forse non dovreste proseguire, ma se invece lo avete visto qui potreste trovare la risposta qualche dubbio scientifico che potrebbe esservi rimasto dopo il film. E adesso andiamo insieme a esplorare la scienza di Interstellar. Perché proprio Interstellar? Intanto perché è un film che mi piace molto e poi perché è un film in cui c'è tantissima scienza e contrariamente a quanto avviene talvolta non viene maltrattata. A proposito, l'idea iniziale di Interstellar è di Kip Thorne che è uno dei massimi esperti di gravità e nel 2017, due anni dopo l'uscita del film, ha anche vinto il premio Nobel per la fisica, non per Interstellar ma per la scoperta delle onde gravitazionali. Thorne è stato anche il consulente scientifico del regista Christopher Nolan durante la lavorazione del film, quindi prima di criticare gli aspetti scientifici di Interstellar bisognerebbe pensarci due volte perché molto probabilmente Thorne ne sa più di tutti quanti noi. Questo non vuol dire che il film non contenga delle piccole imprecisioni o incongruenze e magari ne vedremo qualcuna più avanti, ma sono scelte artistiche che Thorne ha approvato e che non sono violazioni davvero importanti delle conoscenze scientifiche attuali. A proposito, Thorne ha anche scritto un libro molto dettagliato in cui parla di tutta la scienza contenuta nel film, quindi se alla fine del video dovesse restarvi qualche altro dubbio e voleste saperne di più, vi consiglio la lettura del libro. Trovate il link nella descrizione di questo video. Inoltre, siccome Interstellar ha a che fare con la fisica dei buchi neri e dei wormhole, vi consiglio se non li avete ancora visti di guardare i video precedenti che ho dedicato a questi argomenti, trovate la playlist della serie nella descrizione di questo video. Uno dei momenti più importanti nel film è quando un wormhole apparso nei pressi di Saturno consente all'equipaggio della nave stellare Endurance di viaggiare in breve tempo molto lontano dalla Terra, addirittura in un'altra galassia. Ho parlato dei wormhole in un video precedente, ma ricordiamo alcune cose anche qui. Nel film c'è uno scambio di battute in cui Romilly spiega molto bene a Cooper che cos'è un wormhole usando un foglio di carta. Se l'ospazio avesse solo due dimensioni e se io fossi un essere confinato sul foglio di carta, quindi un essere bidimensionale, il percorso più corto per andare da A a B sarebbe questo. Ma se possiamo piegare il foglio in una terza dimensione, che ovviamente non fa parte dello spazio bidimensionale, quindi dell'universo di questo essere bidimensionale, ma insomma se potessi piegarlo e creare quindi un passaggio, un buco, io potrei andare istantaneamente dal punto A al punto B. Quindi il wormhole è una scorciatoia, un tunnel con due imboccature che in due dimensioni sono rappresentate da un cerchio. L'imboccatura del passaggio è un cerchio in due dimensioni. Lo spazio in cui viviamo realmente ha tre dimensioni, quindi il cerchio diventa una sfera. Quindi correttamente il film mostra l'imboccatura del wormhole come una sfera. Guardando nella sfera si vede ciò che sta dal lato opposto del wormhole, ovvero una regione dello spazio tridimensionale lontanissima da quella in cui si trova la prima imboccatura. Inoltre dentro e intorno al wormhole si vedono immagini distorte delle stelle. La ragione è che lo spazio è curvato dalla presenza del wormhole e che anche la luce che sta dall'altro lato viene deviata passando nel tunnel che collega le due imboccature. Il tunnel stesso ha tre dimensioni come lo spazio ordinario, e quindi la endurance può attraversarlo tranquillamente. Tuttavia come abbiamo detto il passaggio attraverso il wormhole presuppone l'esistenza di una dimensione aggiuntiva che non è accessibile normalmente. È proprio come nell'esempio del foglio di carta. Il foglio ha due dimensioni ma bisogna curvarlo e creare un varco attraverso la terza dimensione in modo che il buco possa mettere in contatto due punti lontani. Ma lo spazio reale è tridimensionale, quindi il wormhole è una scorciatoia che attraversa uno spazio a quattro dimensioni. Nella versione italiana del film questo spazio a quattro dimensioni viene chiamato iperspazio, mentre in inglese si chiama bulk. Naturalmente l'idea che esista una dimensione spaziale aggiuntiva è del tutto ipotetica e non abbiamo prove che le cose stiano davvero così. Anche il modo in cui è rappresentato l'attraversamento del tunnel nel film è immaginario ma nessuno ha mai attraversato davvero un wormhole, quindi bisogna lavorare di fantasia. Ora passiamo a Gargantua, ovvero il buco nero super massiccio intorno a cui orbitano i due pianeti che vediamo nel film. Il buco nero secondo Thorne ha una massa 100 milioni di volte più grande di quella del sole. Si può calcolare che con questa massa il raggio dell'orizzonte è più o meno la distanza tra la terra e il sole, ovvero 150 milioni di chilometri. Anche qui, come nel caso del wormhole, la rappresentazione del buco nero è estremamente realistica e coincide con le previsioni della relatività generale. Naturalmente nessuno ha mai visto un buco nero così da vicino ma le simulazioni scientifiche mostrano qualcosa di molto simile a quello che vediamo nel film. In effetti il team che ha prodotto la visualizzazione di Gargantua nel film ha usato equazioni fornite da Kip Thorne e durante il processo Thorne stesso ha notato nuovi aspetti del modo in cui la luce è distorta dall'effetto di lente gravitazionale attorno al buco nero e da questi risultati sono nati addirittura due articoli scientifici. Una cosa importante da notare è che il disco di accrescimento attorno a Gargantua contiene poco materiale, è anemico e questo può accadere se un buco nero così grande non ingoia nessuna stella per un tempo di milioni di anni. Quindi per fortuna non si viene fritti avvicinandosi a Gargantua perché il disco di accrescimento non è caldissimo e non emette grandi quantità di radiazione come avviene nei buchi neri che alimentano i quasar ad esempio. Ma è comunque abbastanza caldo e luminoso da rendere abitabili i pianeti che gli orbitano attorno e che vediamo nel film. Prima di vedere in dettaglio i pianeti notiamo che Gargantua è un buco nero in rapida rotazione e questo ha delle conseguenze sullo spazio circostante. Vicino all'orizzonte lo spazio viene trascinato a velocità prossime a quelle della luce e l'astronave Endurance si parcheggia in un'orbita molto distante circa 10 volte il raggio dell'orizzonte dove può stare al sicuro e non risentire di un effetto di dilatazione temporale troppo grande. La rappresentazione visiva di questo aspetto non è del tutto realistica detta di Thorn perché Gargantua dovrebbe sembrare molto più grande di come è mostrato nel film ma possiamo passarci sopra questa è stata una scelta dettata da esigenze spettacolari. Ora nonostante sia molto lontana dal buco nero la velocità orbitale della Endurance è comunque molto grande circa un terzo della velocità della luce. Per avvicinarsi al pianeta di Miller che si trova vicinissimo all'orizzonte del buco nero bisogna accelerare ulteriormente fino a circa metà della velocità della luce. Non vediamo mai nel film come viene effettuata questa manovra anche se c'è un accenno all'uso di una stella di neutroni. L'idea secondo Thorn è che la navetta con a bordo Cooper e gli altri due astronauti usi una stella di neutroni come fionda gravitazionale come fanno davvero le sonde spaziali con i pianeti del sistema solare. Non è molto plausibile ma ci può stare. E vediamo i pianeti su cui scendono gli astronauti della Endurance. Il pianeta di Miller, quello coperto completamente di acqua, si trova nell'orbita stabile più vicina a Gargantua. Ci sarebbe anche un'orbita più interna ma è instabile ovvero il pianeta cadrebbe rapidamente nel buco nero alla minima perturbazione. Siccome il pianeta è vicino al buco nero per gli astronauti il tempo scorre molto più lentamente che per chi è rimasto sulla Endurance e questo lo vediamo nel film. La dilatazione temporale calcolata è di 7 anni terrestri per ogni ora passata sul pianeta. Per ottenere questo effetto richiesto dal regista bisogna che il pianeta orbiti vicinissimo all'orizzonte. Per rendere possibile questa cosa Thorn ha immaginato che Gargantua ruoti su se stesso a enorme velocità, la massima consentita dalla relatività generale. Per chi lo osserva da lontano il pianeta di Miller fa un'orbita attorno a Gargantua in circa due ore, il che significa che come abbiamo detto si muove a circa metà della velocità della luce. Ma ci sono un po' di complicazioni aggiuntive. Intanto a causa della dilatazione temporale per chi sta sul pianeta l'orbita avviene in appena un decimo di secondo. Inoltre a causa dell'enorme effetto di marea il pianeta di Miller è deformato e mostra sempre la stessa faccia al buco nero. Questa è una cosa che succede anche nel sistema solare. Per esempio la luna mostra sempre la stessa faccia alla terra perché gira su se stessa nello stesso tempo in cui fa un'orbita completa. Quindi il pianeta di Miller sta girando su se stesso e contemporaneamente orbitando a una velocità pazzesca. L'unica ragione per cui non va in tezzi è dovuta al fatto che anche lo spazio circostante viene trascinato alla stessa velocità dalla rotazione del buco nero. Gli effetti di marea spiegano anche perché ci sono quelle onde enormi che vediamo nel film. È la stessa cosa che avviene sulla terra a causa dell'attrazione lunare ma nel film c'è di mezzo un buco nero e le cose sono un po' più estreme. Un'ultima cosa da notare è che ogni secondo sul pianeta corrisponde a circa 16 ore di tempo terrestre. Quindi se anche il pianeta si fosse formato 12 miliardi di anni fa e fosse rimasto sempre in quella posizione sulla sua superficie sarebbero trascorsi solo 200 mila anni. E questa è una cosa un po' bizzarra perché 200 mila anni sono davvero pochi per spiegare l'evoluzione geologica di un pianeta e probabilmente non è un tempo abbastanza lungo per renderlo abitabile. E inoltre per essere nell'orbita in cui lo immagina Thorne il pianeta dovrebbe trovarsi all'interno del disco di accrescimento che è una cosa che non si vede nel film. Ma anche queste sono piccole imprecisioni che possono essere giustificate per ragioni spettacolari. Sul secondo pianeta quello di Mann non c'è molto da dire se non che si trova su un'orbita molto eccentrica, ovvero si allontana molto dal buco nero per una parte dell'orbita e per un'altra parte si avvicina molto e questo può spiegare perché è così freddo. E adesso arriviamo alla parte più complicata del film, quella che è molto difficile capire a una prima visione. Verso la fine del film Cooper decide di entrare dentro Gargantua. Perché? In parte per salvare Brand che non ce la farebbe a sfuggire se dovesse portarsi dietro il suo peso, ma anche per un'altra ragione. L'interno del buco nero potrebbe avere informazioni sulla gravità quantistica che servirebbero a completare le equazioni del professore permettendo all'umanità di conquistare la gravità e lasciare la terra. Una prima cosa da notare, se ricordate il film, è che Brand non vede mai Cooper entrare nell'orizzonte. Come è corretto che sia, l'ho spiegato in uno dei video precedenti sui buchi neri. Cooper invece non solo continua a ricevere segnali da Brand, ma non nota niente di particolare nell'attraversare l'orizzonte e anche questo è corretto. Ma entrando nel buco nero Cooper non dovrebbe morire? Beh sì, se ci limitiamo alla descrizione dell'interno di un buco nero che ci offre la relatività generale. Perché nel centro del buco nero dovrebbe esserci una regione di densità infinita e sarebbe inevitabile raggiungerla. Ma qui il film sfrutta idee teoriche per il momento del tutto ipotetiche che permettono a Cooper di sopravvivere. Sono idee che nascono dai tentativi di trovare una descrizione quantistica della gravità, ipotizzando che l'universo abbia più dimensioni di quelle che conosciamo. Il nostro universo ha quattro dimensioni, tre spaziali più una temporale. Interstellar immagina che ci sia una dimensione spaziale in più. Ricordate ad esempio del foglio di carta che ha due dimensioni ma è immerso in uno spazio tridimensionale ed è questa la cosa che consente la formazione del wormhole. Ecco, l'iperspazio immaginato da Interstellar ha quattro dimensioni spaziali, quindi una in più dello spazio ordinario e nella finzione del film esistono esseri in grado di muoversi anche nella quarta dimensione spaziale e sono loro a salvare Cooper. Ma come fanno? Creano un ipercubo, ovvero un tesseract, un cubo in quattro dimensioni. Proviamo a capire questa cosa dell'ipercubo, del tesseract partendo semplicemente da un punto. Se noi partiamo da un punto che ha zero dimensioni e vogliamo costruire un oggetto che ha una dimensione, tiriamo semplicemente una linea e abbiamo ottenuto un segmento che appunto ha una dimensione. Se vogliamo poi passare a costruire un oggetto in due dimensioni, che cosa facciamo? Partiamo dall'oggetto in una dimensione e ci muoviamo nella direzione perpendicolare, quindi abbiamo bisogno del foglio che ha due dimensioni e costruiamo un oggetto che ha due dimensioni e che è un quadrato. Se ora adesso da questo oggetto bidimensionale voglio costruire un oggetto tridimensionale, che cosa devo fare? Devo tirare così come ho fatto partendo dalla linea per costruire il quadrato. Da questo quadrato devo tirare su delle linee nella direzione perpendicolare, che ovviamente non fa parte del foglio, che è bidimensionale, ma dobbiamo andare nello spazio tridimensionale. Ovviamente non posso farlo con una penna, allora mettiamo un cubo, questo è un cubo, che è un oggetto che ha una terza dimensione. Se voglio rappresentarla sul foglio questa cosa devo per forza fare una proiezione, quindi se voglio rappresentare un cubo su un foglio di carta non posso disegnarlo se non facendo una cosa di questo tipo. Quindi sto disegnando, sto rappresentando su una superficie bidimensionale, un oggetto che in realtà ha tre dimensioni, e quindi abbiamo le facce del cubo, che come sappiamo sono sei, una, due, tre, quattro, cinque, sei, cioè le facce, pensate alle facce di un dato, ognuna di queste facce, di queste sei facce, è un quadrato, quindi è un oggetto bidimensionale, così si vede meglio, no? Una, due, tre, quattro, cinque, sei, quella sotto. Quindi un cubo, che è un oggetto tridimensionale, è composto da sei facce bidimensionali. Allora, per immaginare il tessert, ovvero un ipercubo, un cubo che ha una dimensione in più, che ha quattro dimensioni, dovrei partire dal cubo tridimensionale, così come ho fatto nei casi precedenti, dovrei tirare su da ognuna di queste facce una direzione perpendicolare, però dovrei farlo in una quarta dimensione a cui io non ho accesso, quindi non posso neanche immaginarla, non posso vedere una cosa del genere. Quindi l'unica cosa che posso fare è dire che avrò da ognuna delle facce del mio cubo, posso tirare su un'altra faccia, che però sarà in questo caso un cubo, quindi avrò sei cubi aggiuntivi, due, quattro, sei cubi aggiuntivi, in più c'è il cubo di partenza, sette, e più ci sarà un cubo che avvolge tutte le facce che ho tirato su, quindi in tutto un ipercubo sarà composto da otto facce tridimensionali, che sono otto cubi. Non li posso disporre qui nello spazio tridimensionale perché è impossibile, però così come in questo caso forse avete visto a volte rappresentato un cubo tridimensionale, oltre che così lo avete visto forse rappresentato a volte in questo modo, che è un modo di srotolare il cubo. Se io prendo questa figura la ritaglio e poi la piego, la piego qua, faccio delle pieghe, faccio una piega qua, 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 ricostruisco un cubetto come questo. E quindi questa è una proiezione, se vogliamo, del cubo tridimensionale in due dimensioni. E potrei costruire una proiezione tridimensionale di un cubo in quattro dimensioni prendendo questi cubetti e dovrei disporli, è complicato da fare, ma dovrei disporli così e poi mettere, complicatissimo, dovrei mettere poi quattro facce in questo modo, una qua e una qua. Insomma, vabbè, non si vede molto bene. Però l'idea è questa. Allora, adesso per capire, siccome è difficile visualizzare un cubo in quattro dimensioni, passiamo in tre dimensioni. Usiamo l'analogia del cubo normale come la vedrebbe un essere che vive in due dimensioni, quindi con una dimensione in meno. Se io avessi un essere bidimensionale che vive qui, che vive nello spazio bidimensionale, e io che sono un essere tridimensionale potessi metterlo a contatto con un oggetto del mio mondo tridimensionale, potrei metterlo a contatto così con una faccia del cubo e lui vedrebbe apparire nel suo mondo bidimensionale una faccia del cubo. Potrebbe anche entrare nella faccia del cubo, potrebbe entrare come se fosse una stanza bidimensionale, lui starebbe in una delle facce del cubo. Io poi potrei prendere il mio il mio cubo e lui sarebbe intrappolato qui in una delle facce bidimensionali. Dal suo punto di vista non ci sarebbero problemi perché una faccia di un cubo è bidimensionale. Poi potrei anche spostare il cubo nello spazio tridimensionale e spostarlo da qualche altra parte e il percorso che lui fa, che avrebbe dovuto fare nello spazio bidimensionale, in realtà è molto diverso da quello che io posso fargli fare nello spazio tridimensionale. Questa è un po' l'idea del tesseract che compare in Interstellar in cui invece di avere un cubo tridimensionale abbiamo un cubo quadridimensionale che appare a Cooper nello spazio tridimensionale, quindi nel nostro spazio appare come un cubo. Quindi lui entra in un cubo, che è la faccia di questo ipercubo quadridimensionale, e poi viene trasportato dagli esseri in giro attraverso l'iperspazio quadridimensionale. Dunque, Cooper sta in una faccia del tesseract che quindi è semplicemente un cubo e gli esseri lo trasportano verso la terra viaggiando nello spazio a quattro dimensioni e quindi andando molto più rapidamente che nello spazio tridimensionale. Al termine di questo viaggio Cooper si ritrova a osservare la stanza della figlia. Questo è il momento più incomprensibile del film, proviamo a capirlo tenendo presente che c'è una complicazione aggiuntiva. Gli esseri che hanno creato il tesseract possono vedere il tempo come se fosse un'altra dimensione fisica. Quindi Cooper si trova davanti a sé la stessa stanza vista in tempi diversi e capisce che può spostarsi lungo la dimensione temporale, balzando da un tempo all'altro. Però attenzione, Cooper non si trova fisicamente nello stesso spazio dove si trova la figlia. Per provare a capire questa cosa, immaginiamo che questo foglio di carta sia il nostro universo tridimensionale. Qui lo rappresento con una dimensione in meno per rendere le cose più comprensibili. Quindi l'universo ha solo due dimensioni in questo caso e qui c'è la stanza di Marf che appunto vive in due dimensioni, quindi è un essere bidimensionale in questo caso. Il bulk, l'hiperspazio, in questo caso sarebbe il nostro spazio tridimensionale ordinario. Nel film sarebbe ovviamente uno spazio a quattro dimensioni, ma qui lo facciamo solo con tre dimensioni. Ovviamente Marf non può uscire dal suo universo e viaggiare nella terza dimensione. Noi però in questo caso che siamo esseri tridimensionali possiamo farlo e possiamo anche prendere appunto un tesseract, un ipercubo, che qui in questo caso è semplicemente un cubo tridimensionale, che vive quindi nel bulk e possiamo posizionarlo qui in modo che Cooper che è intrappolato in una delle facce dell'ipercubo può vedere la figlia. Perché può vederla? Può vederla perché, secondo le idee teoriche su cui è basata questa sequenza, tutte le interazioni e le particelle che conosciamo vivono nello spazio tridimensionale, quindi qui in questo caso nel foglio di carta, ma possono anche propagarsi attraverso le facce dell'ipercubo, che sono anche loro bidimensionali, e possono raggiungere Cooper. Quello che non può succedere però è che le interazioni possano, queste interazioni ordinarie possano propagarsi all'indietro nel tempo. Quindi Cooper non solo è intrappolato qui e non può tornare fisicamente nel passato della figlia, ma non può neanche comunicare attraverso la luce o attraverso le normali particelle elementari. L'unica interazione che può viaggiare nell'iperspazio, quindi nel nostro caso l'unica interazione che può viaggiare qui dentro, nel bulk, in questa terza dimensione e raggiungere MARF, è la gravità. Queste sono le regole su cui è basata alla sequenza. E quindi in realtà la gravità non solo può attraversare il bulk, può attraversare l'iperspazio, può attraversare la quarta dimensione, ma può anche farlo avanti e indietro nel tempo. Quindi quando Cooper capisce questa cosa, capisce che l'unico modo per comunicare nel passato della figlia è creando delle perturbazioni gravitazionali. E inizia a farlo spostando appunto i libri della biblioteca, la polvere, le lancette dell'orologio. Ripeto, non lo fa toccando i libri direttamente, lo fa creando delle perturbazioni su questo lato che si propagano attraverso il bulk e raggiungono la figlia. Quindi lui non sta fisicamente spostando con le mani i libri della biblioteca. Comunque Cooper riesce a comunicare i dati raccolti all'interno di Gargantua a sua figlia nel passato e lei riesce a risolvere le equazioni della gravità quantistica e questo dà all'umanità la possibilità di manipolare la gravità e di viaggiare nello spazio. Va bene, per questa volta è tutto, continuate a seguire il canale e alla prossima!